Ha detto con chiarezza che il terrorismo di matrice islamista, che semina lutti in tante parti del mondo, dall'Afghanistan a diversi paesi d'Europa, dall'Africa al Medio Oriente, si contrasta quel terrorismo, come sono fatti in Italia in questi anni e non soltanto nel nostro paese, con la prevenzione attenta, con l'attività delle forze dell'ordine e della magistratura, cioè si contrasta con la legge e con la forza della legge. Occorre avere ben presente che bisogna rifiutare ogni concezione o predicazione di odio e di contrapposizione che colpisce innocenti da tutte le parti. Parole di violenza inducono, eccitano verso la violenza e la violenza ne chiama altra, in una spirale distruttiva che può travolgere la civiltà e la convivenza nel mondo. Contro questi pericoli è per affermare i valori che persone come Megalizzi e Regeni, come Lachimenti e Labuzzetti, come tanti altri, coltivavano e praticavano via un ruolo decisivo dalle università, attraverso lo studio, la ricerca, attraverso l'approfondimento dei problemi, ma soprattutto attraverso gli studenti. Auguri e buon anno accademico.